Vuoi organizzare una proiezione per il film di Slow News? Vai su moviday.it e clicca su Crea un evento. Entra con le tue credenziali Facebook o Google, oppure Crea un nuovo account. Cerca Slow News e seleziona la lingua per la proiezione. Clicca su Personale. Compila il form con i dati riguardanti il luogo dell'evento. È la soluzione ideale se disponi di uno spazio in cui proiettare, ad esempio un locale o la sede di un'associazione. Scegli Data e ora della tua proiezione. Dai un titolo e una descrizione all'evento. Inserisci le tue informazioni personali. Specifica se ti serve una semplice ricevuta per persona fisica, oppure una fattura, per soggetti privati o per la pubblica amministrazione. Ed effettua il pagamento. La quota va pagata con bonifico bancario e comprende licenza, permesso di proiezione, spedizione, pagina di invito e prenotazione per i partecipanti. Hai finito! Dopo che Movie Day avrà ricevuto il pagamento e ti sarà arrivata la mail di conferma, sarei pronto per proiettare il film. Grazie a tutti! Ciao!